La Lega Nord che vittoria ha ottenuto a favore degli esodati? Abbiamo bloccato un provvedimento che era oggettivamente una vergogna perché andava a prelevare 35 milioni di euro dal fondo per gli esodati, conquistato con molta fatica dopo i drammi della riforma Fornero votata anche dal Partito Democratico e siamo riusciti ad eliminare questo scempio che prevedeva appunto 35 milioni in meno per gli esodati e 35 milioni di euro in più per la Social Card agli immigrati. Un provvedimento che retevamo assolutamente iniquo e ingiusto in principal modo perché si andava a colpire una categoria, ovvero quella degli esodati che è rimasta o rischia di rimanere senza alcun tipo di reddito nel lavoro, nella pensione, nell'ammortizzatore sociale. Fortunatamente grazie anche al periodo complicato che sta vivendo l'esecutivo con il cambio di Renzi siamo riusciti ad insistere e a minacciare il blocco dei lavori d'aula se non fosse passato questo emendamento. Questa volta abbiamo vinto, è chiaro che la battaglia per gli esodati non finisce qua perché ci sono ancora troppe persone scoperte da alcun tipo di salvaguardia. La Lega Nord farà battaglia con il prossimo governo su questo tema? Noi abbiamo calendarizzato entro il mese di marzo la proposta di legge proprio della Lega Nord che va a coprire tutte quelle persone rimaste abbandonate dal governo Letta e ci auguriamo che da parte della maggioranza ci sia un po' di buonsenso e capisca che non si può far pagare il prezzo della crisi ai nostri lavoratori che già in un momento del genere vedono chiuse le proprie imprese vedono una disoccupazione giovanile al 42%, una disoccupazione generale che supera il 12% non creiamo e non vogliamo creare un'altra fascia di persone abbandonate a loro stesse. Grazie